Buonasera, siamo Mirko, Sofia e Rachele. Abbiamo 11 e 12 anni e siamo ancora all'asilo. No, frequentiamo la prima media perché l'asilo l'abbiamo lasciato circa 7 anni fa. Ah, ecco perché prendo sempre 4. Vabbè, lasciamo stare. Allora, se siamo in prima media, vi metto alla prova su qualcosa della Terra. Ma io non so niente. Eh, allora, Abbo, prova a leggere da qualche parte. Su Google. Vai. Cerca su Google. Va bene, allora cerco qualcosa. La Terra, in origine, era una palla infocata. Poi, successivamente, molto, 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 molto. Eh, allora, abbiamo capito. Ok, molto lentamente si è raffreddata. E cosa hanno fatto? Hanno buttato sopra la neve? Potessi? Ma chi? Chi? Eh, chi lo sa? Io non c'ero. Tu c'eri? No. Tu c'eri? Eh, no. Allora non lo sa nessuno. Noi siamo piccoli di te, cosa vuoi? Magari c'eri te. Continuiamo. Allora, quindi sulla sua superficie non era presente l'acqua, perciò morivi di sete. Però non c'era ancora vita, quindi vabbè. L'acqua è stata portata poi dalle comete e si è liberata dal sottosuolo con le eruzioni vulcaniche. Wow. Bello. Mi piace. Cerco qualcos'altro. Vai. Il nostro pianeta è ricoperto da polvere di stelle. Ogni anno circa 40.000 tonnellate di polvere cosmica cade sul nostro pianeta. Così tante? Sì, ma io poi non l'ho neanche mai vista. Ho visto solo quella in casa mia. Eh, anche io. Quindi la nostra Terra è fatta di polvere. Ma io che ne so, ti ho detto che non l'ho mai vista. Ce lo sono in casa mia. Io ho trovato un'altra curiosità. Ho trovato che la Terra interagisce con gli altri oggetti nello spazio, in particolare il Sole e la Luna. Ma? La Terra... La Terra orbita attorno al Sole e ogni tanto tempo... Quanto? Qui c'è scritto 366,26 rotazioni su proprie asse, che equivalgono tipo a 365 giorni, fa un giro su se stessa e intorno al Sole. Ma io così non ci capisco niente. Già non so nulla, in più se mi dici sta roba non ci capisco niente. Io in matematica non è la mia materia, quindi i numeri lasciamoli perdere. Adesso vi dico io qualcosa. Che quasi 5 miliardi di anni fa una stella esplose nella Via Lattea inviando polvere nello spazio. Altra polvere? Eh, piena di polvere. Ma tutta questa polvere da dove arriva? E' bello che non pulisce nessuno. Esatto. La gravità ha riunito i chicchi in pezzi più grandi. Così è nato il pianeta Terra. Ah, quindi è letteralmente polvere. Esatto. Ma non è giusto, cioè io non sapevo niente di tutto ciò. Perché adesso c'è solo in casa mia? Adesso c'è solo in casa mia, non c'è più da nessun'altra parte. E 3,5 miliardi di anni fa, dalla massa di molecole di carbonio inanimate è nata la vita. Ah, ma quindi non è fatta di polvere, è fatta di carbonio. Ma esistono? Che io non sapevo che non fosse vivo, cioè io pensavo... Eh, anch'io! Ma io pensavo che camminasse, tipo... Hai detto carbonio, inanimato. Poteva essere animato? Ma io pensavo che vivesse, cioè tipo camminava. Eh, vabbè. Ho trovato un'altra curiosità. Ho trovato delle pietre che camminano da sole su questa terra. Lo sapevate? E come fanno a camminare? C'hanno le gambe? No. Macchina? No. Bici? No, nemmeno. Moto? No. Aerio? E allora è impossibile. No, invece sì. Questo fenomeno è un movimento di pietre senza l'intervento dell'uomo. Ben qui. Questi massi si muovono sulla superficie da strati di ghiaccio che si trovano sotto il terreno. Per questo. Quindi sottoterra ci può essere gente che pattina sul ghiaccio. No. Oddio, è vero. Peccato. Magari ci andavo ieri o domani. Secondo me è tutta colpa degli alieni. Come fai ad andarci ieri? Indietro nel tempo. E con cosa vai indietro? Con la navicella degli alieni. Oh, del suo alieno che ha creato lui. Tu non lo sapevi che ha creato un alieno? Oh, no, non lo sapevo. Come si chiama? Ginger. Ok, allora visto che lei non sa niente, tu sei di tutto e di più e io sono un po' così, lasciamola stare e la finiamo qua. Ecco. Ci vediamo alla prossima puntata che è il sole. Ah, allora alla prossima volta mi porto la crema solare. Sì. Ok, ciao. E studiati qualche informazione magari. Io volevo chiudere con il momento sponsor, ma purtroppo non me lo fanno fare perché sennò ci vengono sotto casa, ci rapiscono e ci portano dagli alieni. Quindi, ciao. Va bene. Ciao. 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 Ciao.